Il danno economico, tutto da quantificare, è probabilmente quello meno ingente, perché il furto di computer messo a segno nella notte all'interno della scuola elementare Papa Giovanni XXIII a Margherita di Savoia ha provocato di fatto l'interruzione del lavoro negli uffici amministrativi e in termini più strettamente pratici costringerà a ripescare tutti gli elenchi di alunni e docenti dell'istituto comprensivo. Insomma, i ladri, che hanno approfittato di una finestra malfunzionante sul retro dell'edificio per introdursi nei locali della scuola, si sono portati via computer, una decina, nei quali erano conservati dati sensibili, tutti quelli relativi ai bambini e agli insegnanti, ed una cassaforte che conteneva altri documenti importanti per la vita dell'istituto scolastico. I malviventi hanno agito la notte scorsa e saranno le indagini affidate ai carabinieri a dover risalire ai responsabili. Difficile che possano tornare utili alle stesse le telecamere a circuito chiuso, installate all'ingresso dell'edificio e non solo perché i ladri sono entrati da una finestra sul retro, infatti quelle telecamere non sono funzionanti. Si chiude, di fatto, un anno orribile per la scuola elementare Papa Giovanni XXIII, quello di questa notte e il quarto furto messo a segno negli uffici e nelle aule dell'istituto e, a quanto sembra, i ladri hanno una particolare preferenza per le scuole margheritane. Non più tardi di due mesi fa era finita nel mirino dei malviventi la scuola dell'infanzia di zona armellina. In quell'occasione, oltre al solito computer, era stato rubato materiale di cancelleria, ma il danno maggiore da parte degli autori del furto fu quello di scaricare gli estintori nelle aule, così da rendere inutilizzabili anche i giochi per i più piccoli.